Chiusura negativa per le borse europee dopo una giornata incerta. A Milano il Fuzzimibe è sceso proprio sul finale, cedendo quasi un punto percentuale. Anche peggio gli altri listini. Francoforte perde due punti percentuali, mentre Madrid e Parigi calano rispettivamente dell'1,36 e dell'1,15%. Sul versante del reddito fisso, lo spread BTP Bund risale leggermente a 176 punti base, superato dai 171 di quello spagnolo. Il rendimento del decennale italiano sul mercato secondario è di poco sopra il 3,4%. A Piazza Affari, riflettori puntati su Telecom Italia, che ha pubblicato i risultati per il 2013, ricavi in calo e perdite per 674 milioni di euro. Il titolo dell'operatore ha chiuso, cedendo circa due punti e mezzo percentuali.